Una vista meravigliosa, c'è il mare, che cos'è il mare? Il mare è stupendo, tra l'altro ti voglio portare in barca perché... In barca? Assolutamente. Guillermo, questo mare è bellissimo, è meraviglioso, è un luogo fantastico, ma qui dove siamo? Qui siamo in uno dei posti più belli di Agropoli, che sono le grotte dei Cormorani. Questo è lo scoglio di San Francesco, la storia ci dice che San Francesco parlava qui ai pesci ed è stata messa la prima pietra per la nascita del convento di San Francesco, ed è la paia di Trentova. Non puoi andare via senza aver assaggiato la pizza cilentana. C'è poco.